Calaari, contrasti cromatici di terre africane e florescenze e rugosità della pietra spaccata. Calaari è un progetto ceramico in porcellanato smaltato. Quattro informati, tra cui il 10x10 da rivestimento per ogni ambiente del settore residenziale. Grazie alla grafica digitale ad altissima risoluzione Color Definition System, la superficie è infinitamente mutevole, in ogni punto irripetibile. Calaari è disegno, carattere, forza del colore, è ricchezza naturale.